Riunione della Commissione Urbanistica del Comune di Salerno per discutere delle fonderie Pisano. All'incontro convocato da Mimmo De Maio e Arturo Iannelli è stata invitata la dirigente del settore urbanistico del Comune di Salerno, l'architetto Marilena Cantisani. Una nuova strada, quella scelta da Palazzo di Città per fare il punto su quanto la presenza della fabbrica in via dei Greci a Salerno sia effettivamente compatibile con la zona ormai residenziale in cui si opera. L'iniziativa di riunire le due commissioni e chiedere a Cantisani di tracciare lo stato dell'arte della questione dal punto di vista urbanistico è nata nel corso della riunione della Commissione Ambiente che ospitò il presidente dell'Associazione Salute e Vita, Lorenzo Forte, e il vice presidente di Medicina Democratica Paolo Fierro. Le fonderie Pisano potrebbero essere delocalizzate e ormai si parla di questo da molto tempo, ma sono ubicate a Salerno dagli anni Sessanta. Ormai da anni sono aumentate le proteste dei cittadini e dunque dei successivi controlli. Hanno più volte provato a individuare altre aree in cui delocalizzare l'azienda. I tentativi di possibile delocalizzazione si sono arenati più volte per lo più per via delle resistenze delle popolazioni e delle amministrazioni comunali interessate, da Giffoni Valle Piana a Campagna fino ad arrivare all'area Asi nel comune di Buccino. E in quest'ultimo comune i Pisano hanno acquistato terreni, ma al momento della delocalizzazione non c'è traccia.